Il prossimo pezzo, questa è la storia, vuoi raccontare che cosa succedeva 28 anni fa? 28 anni fa nesceva un gruppo, sono quelli che vedete nelle immagini, un gruppo di cui faceva parte anche mister Terroburgo, che lì ha un po' più di capelli, comunque è sempre lui, vabbè anch'io porto il cappello per coprire la piazza. Allora il pezzo che abbiamo fatto prima era dedicato alle chitarre, noi allora abbiamo registrato questo blues, si chiama Marshall Blues e questa volta invece di essere dedicato alle chitarre è dedicato ai Marshall con gli affari neri che c'era dietro Teo. E io mi ci addormentavo. Sì, lui ci addormentava, sì, ci addormentava. Se no non dormivo. Eh sì, quante volte mi hai fatto ascoltare quel disco. Pensate che lui quando era bambino se non ascoltava il disco di Gondo dormiva e io puntualmente tutte le sere mi dovevo subire il disco due, tre volte e poi come lo staccavo lui si svegliava. Quindi ormai questo disco mi è entrato nell'anima ed è rimasto lì. Quindi Marshall Blues! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti